Qui alla conferenza di presentazione, oggi a Ponte Cagnano, anche il capogruppo in consiglio provinciale di Forza Italia, Giuseppe Ruperto. Giuseppe, l'importanza della crescita di Forza Italia qui a Ponte Cagnano sul territorio e della tua presenza proprio qui a Ponte Cagnano-Faiano? Siamo particolarmente soddisfatti ed orgogliosi del lavoro del nostro gruppo consigliare a Ponte Cagnano-Faiano. Un lavoro che viene portato avanti con un forte senso di responsabilità per il bene della città e della comunità. Noi non portiamo occasione per evidenziare che il gruppo di opposizione, il ruolo del consigliere di opposizione è un ruolo particolarmente delicato. Bisogna avere quell'intelligenza politica ed amministrativa di saper scindere in modo netto il momento della propaganda elettorale dal momento della responsabilità. Noi siamo soddisfatti davvero per tutte le iniziative, le azioni che Gianfranco, Francesco e Raffaele portano avanti per il bene della comunità. La prova proprio del loro grande lavoro è anche l'adesione dell'amico Raffaele. Ringraziamo in modo particolare il capogruppo Gianfranco e l'amico Francesco per quello che stanno facendo. Noi come gruppo consigliare in provincia siamo a disposizione, siamo a loro fianco per essere utili alla comunità di Ponte Cagnano-Faiano.